buongiorno a tutti andiamo a realizzare dei bignè la farcitura del bignè ma prima di arrivare alla farcitura è importante parlare della cottura e della materia prima utilizzata per realizzare un buon bignè in primis il burro che ricordo di frascheri cosa mi dà il burro frascheri ma innanzitutto cosa voglio avere da un prodotto quale il bignè ma anche una frolla qualsiasi prodotto voglio avere i buoni sentori del latte il buon gusto del burro che esca i buoni profumi che si sviluppano dopo la cottura e quindi per ottenere un buon bignè devo usare un buon burro secondariamente nella ricetta è fondamentale l'utilizzo della panna e anche del latte proprio in fase di cottura perché mi accentua la colorazione come consumatore finale nel momento in cui mi trovo un dolce ma lo stesso bignè di tutti i giorni nel banco vetrina come pasticceria mignon cosa leggo in un prodotto che ha una colorazione come questa che all'interno c'è materia prima materia prima importante quindi comunichiamo ai nostri consumatori in primis con la vetrina in primis comunichiamo a livello visivo quindi è importante usare questi prodotti che danno una bella colorazione mantengono le caratteristiche organolettiche e poi il profumo eccezionale allora una volta cotto al bignè lo andiamo a farcire abbiamo montato della panna panna frascheri ricordo al 35 o al 38 per cento in questo caso io ho usato una 35 per cento quindi andiamo a farcire il nostro bignè in questo modo poi i bignè possono essere anche inseriti farciti con diverse creme crema vaniglia crema cioccolato crema pistacchio ed essere utilizzati per diverse proposte nella pasticceria noi con questi bignè andremo quindi ad utilizzarli per terminare la nostra santonore adesso li posizioniamo nel frigo positivo ed è importante perché questa panna è stata studiata proprio il concetto della sinergia fondamentale anche nel frigo nel momento in cui devo fare una santonore posso prepararla farcire i bignè anche tempo prima perché mettendo il prodotto in frigo la panna non tende a separarsi e quindi anche come professionista ho il concetto di organizzazione del lavoro messo con i dovuti criteri e termini per avere sempre un lavoro perfettamente organizzato è un prodotto di altissima qualità quindi andiamo a posizionarli adesso in frigo